Voto chi taglia la RC Auto. Questo dovremmo dire e fare noi cittadini elettori. Altro che votare chi toglie l'Imu. Tutti i politici adesso parlano dell'Imu. C'è appunto Berlusconi che sulla prima casa ha detto appena divento primo ministro la tolgo. C'è persino Mario Monti che vuole in qualche maniera rimodularla. Anche Bersanni è d'accordo se non altro di toglierla sempre sulla prima casa a chi ha i redditi più bassi. Tutti quanti parlano di Imu. E non che l'Imu per carità non abbia inciso. Ma se parliamo di prima casa appunto l'Imu è una. Conoscete voi una famiglia che abbia solo un'automobile? Io non ne conosco nemmeno una. Perché se la moglie lavora le automobili sono due. Se abbiamo dei figli grandi non è certo l'eccezione che una famiglia abbia tre automobili. E quindi tre RC Auto da pagare. Ovviamente non esiste di toglierla la RC Auto ma di tagliarla sì. Cioè di adeguare il costo delle polizze a quello che è il costo delle polizze in Germania. Delle polizze tedesche che costano minimo la metà ma anche tre, anche quattro, anche cinque, anche dieci volte di meno delle polizze italiane. Arriviamo a capire come mai sto parlando di questo argomento. Lunedì letteralmente mi scappa l'occhio sull'inserto economico del Corriere della Sera. Sono quegli inserti dei grandi quotidiani che normalmente non guardi neanche e butti direttamente nel cestino. Casualmente lunedì, prima di buttarlo via il Corriere Economia, l'ho guardato e ho visto questo titolo. Caro polizze, lo spread dell'RC Auto. Usano il termine spread perché appunto il raffronto è con la Germania e viene fuori che il neopatentato tedesco paga di polizza mille euro in meno dei nostri ragazzi. Cioè del neopatentato italiano. Ma il dato più clamoroso è quello medio. Lasciamo perdere le differenze che pure ci sono. A Napoli si paga di più perché a Milano, allora a Milano normalmente il costo medio di una polizza è 590 euro. In Veneto un po' di più, 650. In tutte le città tedesche è 240 euro. Il che vuol dire signori, un terzo in meno, altro che l'Imu, la polizza è il costo che incide sulle famiglie. Se poi andiamo a guardare le motociclette, è clamoroso. Pensate che una motocicletta di 500 di cilindrata, in Italia mediamente si pagano 480 euro di polizza assicurativa, in Germania 36 euro, meno di 10 volte, 15 volte di meno della Germania, dove i cittadini hanno un reddito più alto di quelli italiani. Allora oggi il problema per le famiglie, l'Imu ci hanno parlato per mesi, ma certo l'Imu, ma perché nessuno ci parla della RC Auto? Perché il Corriere della Sera invece che sbattere un titolone in prima pagina e andare avanti a parlarne per mesi, lo confina nell'inserto economia? Ma perché le assicurazioni sono collegate alle banche e le banche italiane sono nei consigli di amministrazione dei grandi quotidiani, dei media. E non bastassero le banche nei quotidiani, c'è Berlusconi che ha Mediolanum, c'è Bersani che non si può dire che abbia Unipol, ma Unipol lo sappiamo gravita attorno al Partito Democratico. E allora le forze politiche e i media non ci parlano del vero problema delle famiglie, non ci spiegano come sia possibile che la Germania paghi un terzo di quello che paghiamo noi. Allora abbiamo fatto anche una trasmissione, rosso e nero, anche con il rappresentante della D-Consum. E cosa viene fuori? Che certo c'è una responsabilità nostra perché tendiamo a truffare, imbrogliare, se sbattiamo diciamo che abbiamo fatto l'incidente. Però finché tu puoi portare il prezzo delle polizze sempre più in alto, le compagnie di assicurazione se ne fregano delle truffe. Anche le truffe sono un affare perché aumenta il volume, aumentano i soldi. Se tu avessi un fiscal compact europeo, se tu avessi delle tariffe assicurative europee, allora le compagnie italiane sarebbero interessate a combattere le truffe, a imporci comportamenti più corretti come automobilisti. Ma finché è così, chi se ne frega? Tanto paga pantalone, paghiamo sempre noi cittadini. E vi pare possibile che, ripeto, un tema del genere che incide sulle famiglie molto più dell'Imu sia completamente assente dal dibattito elettorale. Vediamo se ce ne sarà uno di candidati premier nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, che verrà in televisione a dire Cari cittadini, io mi impegno solennemente a tagliare la RC auto, a portarla a livelli di costi europei, a livelli di costi tedeschi. Oggi le nostre sono le più alte d'Europa. A risentirci.